Investire nel trading online, una guida dettagliata. Il trading online rappresenta un modo accessibile e potenzialmente redditizio per investire sui mercati finanziari globali. Tuttavia, è importante capire che il trading comporta rischi, e non esiste una formula magica per garantire il successo. In questo articolo, esploreremo come iniziare a investire nel trading online in modo responsabile e informato. 1. Educarsi prima di iniziare Prima di investire nel trading online, è fondamentale acquisire una solida base di conoscenze. Comprendere i mercati finanziari, i principali strumenti finanziari e le strategie di trading è essenziale. Ci sono numerose risorse disponibili online, tra cui libri, corsi online e video tutorial, che possono aiutarti a imparare le basi. 2. Scegliere il tipo di trading Ci sono diverse modalità di trading online tra cui scegliere, tra cui Trading di azioni, l'acquisto e la vendita di azioni di società quotate in borsa. Forex trading, il trading di coppie di valute sul mercato delle valute estere. Trading di criptovalute, l'acquisto e la vendita di criptovalute come bitcoin ed ethereum. Trading di CFD, il trading di contratti per differenza su una vasta gamma di asset, come azioni, indici, materie prime e valute. Opzioni binarie, un tipo di trading in cui si prevede se il prezzo di un asset aumenterà o diminuirà entro un periodo di tempo specifico. Ogni tipo di trading ha le sue caratteristiche e rischi unici, quindi è importante scegliere quello che meglio si adatta alle tue conoscenze, obiettivi e tolleranza al rischio. 3. Scegliere una piattaforma di trading affidabile La scelta di una piattaforma di trading affidabile è cruciale. Assicurati che la piattaforma sia regolamentata da un'autorità finanziaria e offre un ambiente di trading sicuro e trasparente. Le piattaforme di trading online popolari includono eToro, Plus500, e Interactive Brokers, ma ci sono molte altre opzioni tra cui scegliere. 4. Creare un piano di trading Un piano di trading è un documento che definisce le tue strategie, obiettivi e regole di gestione del rischio. Questo piano ti aiuterà a rimanere disciplinato e a evitare decisioni impulsive basate sull'emozione. Assicurati di includere obiettivi di profitto e di perdita nel tuo piano. 5. Gestione del rischio La gestione del rischio è fondamentale nel trading online. Utilizza l'analisi tecnica è fondamentale per prendere decisioni informate e imposta ordini stop loss per limitare le perdite. Non investire mai più di quanto puoi permetterti di perdere. 6. Inizia con un conto demo Molte piattaforme di trading offrono conti demo, che consentono di esercitarsi con denaro virtuale prima di investire denaro reale. Questa è un'ottima opportunità per mettere alla prova le tue strategie senza rischiare i tuoi fondi. 7. Monitorare e adattare Il trading online richiede costante monitoraggio e adattamento. Tieni traccia delle tue operazioni, analizza i risultati e apporta modifiche al tuo piano di trading se necessario. 8. Mantieni la calma Il trading può essere emotivamente impegnativo. Mantieni la calma anche in periodi di volatilità e imparare dagli errori. Il successo nel trading online richiede pazienza e disciplina. In conclusione, il trading online può essere una modalità gratificante di investire, ma è importante farlo in modo responsabile ed educato. Investi tempo nell'educazione finanziaria, scegli una piattaforma affidabile e gestisci il rischio in modo adeguato. Il trading richiede pratica, quindi non aspettarti di diventare un esperto da un giorno all'altro. Condividi, iscriviti e unisciti alla nostra nuova avventura su YouTube.